Nel bellissimo borgo di Roscinio Vecchia con il cantante e attore Carmelo Zappulla che presenta il suo nuovo video musicale, il brano Ipocrisia. Allora, spieghiamo innanzitutto perché la scelta di Roscinio Vecchia. Perché abbiamo saputo dal nostro regista, e poi siamo venuti qui stamattina, e abbiamo verificato che in effetti ha ragione, è un posto stupendo, un posto bellissimo, bello. Parliamo anche un pochettino di questa, di Ipocrisia, che è una cover se non vado errato. Sì, è una cover dal titolo Ipocrisia. Ipocrisia è una canzone che è stata cantata per la prima volta da Angela Luce, circa 40 anni fa. È una canzone, diciamo, femminile. Perché quasi tutte le tante cantanti l'hanno ricantata, ma quasi tutte donne. E non so, perché non mi sono informato questo, da un uomo non l'ho sentita mai cantare. Io ho voluto fare la versione, diciamo, maschile. Accanto a Carmelo Zappulla, Tony Sperandeo. Lo conoscete tutti, tra l'altro, Tony Sperandeo, grande attore, è ritornato proprio qui a Roscinio Vecchia, sul luogo del delitto dopo 22 anni. Ricordiamo per 22 anni fa cosa accadde. Allora, io stavo girando Soldati di Pace a Sarajevo ed eravamo appoggiati dall'armata Garibaldi. Salve che ci fu l'attentato nel 2001 a New York, alle Due Torri, e quindi ci hanno fatto rientrare subito perché la cosa poteva diventare in tutto il mondo, poteva succedere qualcosa. Quindi ci hanno fatto rientrare e noi il film l'abbiamo finito a Persano. E poi da Persano ho girato nella caserma di Persano, che è vicino a Eboli, a Battipaio. E poi siamo venuti a girare in questo posto. Ora, io oggi non sapevo di venire qua. A Sarajevo, però appena ho visto questo posto sono felice di essere tornato sul luogo del delitto, perché grazie a Carmelo che mi ha invitato a fare questa ipocrisia, questo brano, che è bellissimo. Ecco, ci spieghi l'incontro con Carmelo Zappulio? Prima amore. Eravamo amanti tanti anni fa, ma ci siamo lasciati per colpa sua. Da male in motogniaca. Fendi, ce la sbettila! No, ci conosciamo da tanti anni, siamo amici, 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 quindi quando possiamo, quando possiamo, è sempre la bella festa di incontrarci.